Ancora bentrovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio, Agnese Fedeli. Code diffuse per traffico in A1 nella carreggiata in direzione sud. Troviamo rallentamenti tra BV1 Variante e Badia, tra Aglio e Incisa Reggello, tra Incisa e Arezzo e tra Arezzo e Chiusi. Ci spostiamo in Fipili, possibili rallentamenti per un veicolo fermo o in avaria tra Ginestra e la Strassigna verso Firenze. Per le statali sulla stalle 12 della Betone del Brennero, prudenza per Frana all'altezza di Giardinetto in direzione di Pisa. Prima di salutarci per il traffico aereo, il volo Pisa-Manchester delle 16.55, al momento segnalato in partenza e in ritardo alle 17.25. Wovers in Toscana Infi, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!